Ciao amici e collezionisti amanti del fumetto Disney, Egli Topolino, quest'oggi un esimo video dedicato a una testata, non in mio possesso, ma ringraziando l'amico Massimiliano, meglio Max, collezionista che già parlo su questo canale, come per esempio nella sua gigantesca collezione tempo fa analizzata, ci ripropone oggi un suo video dedicato ai maestri Disney. Una serie che per quanto sia una ristampa e né io né lui siamo così intenzionati a seguire il mondo delle ristampe, anzi di fatto ci limitiamo a ben poche cose da comprare, ebbene è una ristampa però degna di lode. La ritengo personalmente, per quanto io mai l'ho avuta e probabilmente mai l'avrò, eccetto per un albo, chissà che in futuro lo possa recuperare perché è un particolare, una ristampa davvero ben curata, la ritengo la collezione, la serie, la testata più interessante dopo o forse alla pare di Zio Paperone, quella bianca. Una serie che portava in luce grandi maestri, possiamo definire questa serie l'antesignana dei grandi autori, quella che esce attualmente in edicola, anche se di fatto parliamo di tutt'altro livello, tanto volumi anche più grandi, volumi che riguardavano diversi autori, anche analizzando nel dettaglio storie, biografie, curiosità, aneddoti, volumi che a mio avviso, per chi ne abbia la possibilità, converrebbe recuperare. Max, ti ringrazio per questo video e buona visione a tutti. La collana I maestri Disney venne creata nella seconda metà degli anni 90 del secolo scorso, per l'esercizza nel febbraio del 1997. Il formato grafico è identico alla collana di Zio Paperone e anche in parte la grafica. Possiamo notare dei parallelismi. Zio Paperone è iniziata con fascicoli multicolori e poi si è uniformata la tipologia copertina bianca con costa dorata. Mentre, per quanto riguarda I maestri Disney, si è iniziato con i primi 18 numeri con copertina bianca e poi dal 19esimo numero fino al 37 le copertine sono diventate di vari colori. Dicevamo, nel febbraio del 1997 faceva Capolino nell'edicolo italiane una nuova testata che ridefiniva completamente il concetto di rivista per collezionisti. A seguire il varo di questa meravigliosa testata furono tre prodi filologi disneyani, Lidia Canatella, Luca Boschi e Alberto Beccatini. La caratteristica di questa testata è che fu una testata come Zio Paperone dedicata al collezionismo e ai collezionisti. Quindi conteneva un apparato critico ed un approccio più serio e più corretto al fumetto disneyano. La testata ha privilegiato in primis storie poco note, rare, da pubblicare come erano state concepite in origine, con i loro colori e con i loro difetti. Il filo conduttore sarebbe stato quello di presentare ai grandi autori il fumetto disneyano. Questo è il numero uno, primo numero della testata, dedicato a Giovanni Battista Carpi, uno dei maggiori disegnatori del mondo disney. Perché venne scelto Carpi? Venne scelto Carpi perché allora, nel 1997, era il responsabile dell'accademia disney e soprattutto era un disegnatore che aveva vinto molti premi sotto vari aspetti grafici. Dal disegnatore puro a colui che disegnava con acquarelli, quindi anche la versione del pittore. Quindi poteva rappresentare al meglio il primo autore degno di essere richiamato e ricordato in questa collana. Insieme alla collana viene pubblicato anche questo bellissimo manifesto come lancio promozionale che si trovò anche nelle edicole. E già questa immagine sta a dare l'importanza di questa nuova testata. Vicino a Garibaldi e a Leonardo da Vinci c'era Zio Paperone. Quindi è un qualcosa di molto particolare e di molto interessante. Mi fa piacere ricordare che all'interno di queste testate, che ricordiamo una delle caratteristiche fu questa, iniziarono con un numero di pagine abbastanza limitato, sulle 132 pagine, ma ben 34 pagine di articoli e di redazionali. Quindi una percentuale molto elevata. Curiosità di questa testata è che è composta da 37 numeri. 37 numeri che spaziano su parecchi autori, non tantissimi. Tanto è vero che poi, se facciamo un'analisi un po' più specifica, troveremo che questa testata ha 5 volumi dedicati a Carpi, di cui l'ultimo è dedicato in parte alla scuola di Novese, 7 volumi dedicati a Bottaro e alla scuola Ligure, 5 volumi dedicati a Giorgio Cavazzano, 7 dedicati a Romano Scarpa, di cui l'ultimo la scuola veneziana, e lo andiamo adesso a trovare a Romano Scarpa, lo troviamo, lo troviamo, lo troviamo, eccolo qua, dedicato a Romano Scarpa, 3 dedicati a De Vita, un massimo, 1 dedicato a suo padre Pier Lorenzo, 2 dedicati a Paul Murray e 3 dedicati a Gofferson. Quindi possiamo dire che la presenza degli italiani è predominante in questo tipo di testata. Ma vediamo alcuni elementi che possono essere interessanti. La testata ebbe una periodicità, diciamo così, abbastanza variabile, nel senso che partì da bimestrale e durò come grafica fino al 1999. Questo è il diciottesimo numero dei maestri Disney uscito nel 99. Poiché si trattava di una testata di nicchia, si pensò ad un restyling, ma solo all'inizio del 2000 uscì il nuovo numero. La testata era rimasta invariata come nome con l'aggiunta di oro, ovvero i maestri Disney serie oro, che come vi avevo accennato, incominciano con questo bellissimo volume dedicato a Romano Scarpa e a differenza, come potete vedere, il formato dimensionale è identico, però cambia. Le costine diventano multicolore, anzi, diciamo di più, sembrano quasi dei volumi a sé stanti, più che una serie che esce in edicola con una testata in modo specifico. Abbiamo detto che cambia la periodicità. E cosa succede? Da bimestrale incomincia a diventare semestrale. Prima, pardon, trimestrale, primi numeri, e poi divenne semestrale, con una semestralità un po' bizzarra, cioè un numero usciva a gennaio dopo il Natale e uno a maggio prima della fine della scuola. In questa stranetta, per otto anni, i maestri Disney arrivarono quasi puntuali in edicola, sempre più, come dicevo prima, come volumi a sé stanti. Qua ne vediamo l'ultimo, quello dedicato a Bottaro. E anche il prezzo si modificò radicalmente. Passò dal 5.500 lire del primo numero a ben 8 euro dell'ultimo numero. La testata ebbe una vita di circa 11 anni. E poi, anch'essa, venne chiusa. Diciamo che, per onestà intellettuale, le testate dedicate ai collezionisti furono in realtà due, Zio Paperone e i maestri Disney. Dopodiché, fino all'arrivo delle recenti testate della Panini, si torna ad avere un vuoto principale. Vediamo, per curiosità, l'ultimo numero dedicato a Luciano Bottaro. Poi vedremo altri autori minori. È chiaro che, come sceneggiatori, furono solamente presi in considerazione due sceneggiatori, Guido Martina e Rosolfo Cimino. Questa è la prima pagina. Notate comunque la differenza anche di spessore che si creò, aumentò la fogliazione e aumentò anche il prezzo. Molto curati, con storie, alcune inedite, per quanto riguarda Romano Scarpa, vennero portate, riportate, si può essere attestata, alcune storie completamente inedite. Giusto per ricordare, le storie daniedi di Romano Scarpa e quelle francesi di Cavazzano, oppure le ultime del maestro Bottaro, prima della sua scomparsa. Notate comunque il tipo di impaginazione, molto attenta, una carta molto piacevole, come spessore, come riproduzione grafica, una marea di redazionali e di curiosità, oltre al rettore centrale. Una delle caratteristiche è che, oltre ai redazionali, all'intervista agli autori, ci furono anche delle interviste agli allievi di questi autori, che descrivono le caratteristiche che gli hanno colpiti dei loro maestri ai tempi dell'Accademia. Adesso diamo un'occhiata ad alcuni... Ecco qua. Interessante è questo volume. I maestri di Disney Oro, dedicato a chi speciale è a Rodolfo Cimino, uno dei principali sceneggiatori. Vediamo qua richiamati subito uno dei personaggi principali, che è Reginella. Qui abbiamo il richiamo all'errore romantico, dallechine. e vengono richiamate tutta la storia dell'autore da quando nasce a quando incomincia poi a scrivere per la Disney. Ci sono un sacco di informazioni. Ecco qua, per esempio, Maestri di Oro, le più belle storie degli artisti milanesi. Con queste raccolte vengono inseriti alcuni autori, tra virgolette, secondo me, erroneamente definiti minori, ma che però un singolo autore non avrebbe retto, non avrebbe avuto materia, materiale sufficiente per reggere un'intera testata dei maestri Disney. Guardate che magnifici disegni questo meraviglioso Pippo Detective. Questo, per esempio, è il numero dedicato a Bottaro, ma agli artisti riguri. Quindi sicuramente ci sarà Guido Scala e altri autori riguri tra virgolette minori, ma secondo me invece dei grandi autori che avrebbero meritato molta più popolarità. Ecco, Franco Aloisi, Guido Scala, qui, la mitica fotografia, gruppo BRC, Bottaro, Rebuffi Candy, un disegno che richiama Ugianco Rapallo, una copia o meno, un numero del volume è stato dedicato al grande Marco Lota, conosciuto non solo in Italia, ma anche in ambito europeo, dal suo tratto molto, molto classico, diciamo, ma ricordiamo che è stato copertinista di buona parte delle copertine di Dio Paperone, di molti topolini fino alla metà degli anni Ottanta e di molte copertine degli almanacchi di topolino. Bellissimo questo volume a lui dedicato, come per esempio un altro volume interessante è questo qua, dedicato a Floyd Gofferson. questo qui richiama le sue strisce di topolino nella preistoria. Come vedete c'è tutta una parte poi di redazionale oltre che il suo metto in quanto tale. E attenzione, la quarta di copertina era disegnata, non c'era nessuna pubblicità, il che rendeva proprio l'idea di un volume a pieno titolo, ecco. altro numero importante è questo dedicato a Guido Martina, l'altro sceneggiatore disney sottoprenominato il professore. Eccolo qua. Dalla data di nascita a tutti gli eventi principali delle sue storie. come potete vedere e lavorò fino praticamente ai primi anni 80. Bellissimo anche a retro questa quarta di copertina. spero di avervi dato una carrellata quantomeno chiaramente non esaustiva ma che permetta a voi di avere avuto un'idea di questo bellissimo progetto che secondo me nonostante sia stato chiuso da ormai 15 anni merita di essere acquisito perché dà una marea di informazioni una bellissima veste grafica e comunque secondo me è uno degli elementi insieme a Zio Paperone che un vero appassionato disney non può non avere a casa sua. Un caro saluto all'amico Alain e a tutti coloro che seguono il tuo canale è stato veramente piacervole avere un'ulteriore opportunità di essere qui con lui e con voi a parlare di una testata per me molto particolare e molto ben curata che è quella dei maestri disney testata che secondo me è fondamentale per qualsiasi appassionato del mondo disney Un salutone e alla prossima Ciao